Assessore Veri, i dati dicono che in Abruzzo c'è una media superiore a quella nazionale per quanto riguarda il gioco d'azzardo, tra i giovani e anche tra i meno giovani. Ahimè purtroppo è vero ed è questo uno dei motivi perché noi abbiamo anche modificato la delibera proprio come urto a questo fenomeno, che è un fenomeno in espansione, un fenomeno nella nostra regione in espansione anche nell'età fino ai 18 anni, perché spesso e volentieri, proprio come viene riportato da quest'indagine, molti giovani non si rendono conto che è vietato ai minori di 18 anni poter mettere in atto quei comportamenti che poi possono diventare veri problemi per la sanità e quindi per l'individuo. Abbiamo degli obiettivi ben precisi che sono delineati sia nella delibera, ossia lavorare molto sulla prevenzione, sulla riabilitazione e sulla conoscenza nell'ambito informativo e proprio per questo motivo abbiamo firmato un accordo con le scuole, con tutto ciò che è il Dipartimento della Scuola e porteremo ancora avanti un'ulteriore delibera con accordi nei comuni, l'ho proprio firmata da pochi giorni, per cui con l'ANCI fermeremo questo protocollo dove anche i comuni porteranno avanti una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione. Si parla di gioco d'azzardo, dottoressa, qual è la situazione in Abruzzo? La situazione in Abruzzo è una situazione piuttosto critica, devo dire che per quanto riguarda la raccolta, ovvero i soldi che i cittadini abruzzesi spendono in gioco d'azzardo, la regione Abruzzo è più alta rispetto alla media nazionale, si raccoglie pro capite circa 1.500 euro a testa contro i 1.200 del dato nazionale. Stiamo inoltre facendo uno studio sulla popolazione generale, si chiama GAPS, in questi giorni stanno arrivando a casa dei residenti dell'Abruzzo i questionari e dai risultati preliminari vediamo che anche lì la prevalenza delle persone che gioca è molto più alta rispetto al dato nazionale. Quindi c'è ancora tanto da fare in Abruzzo, bisogna iniziare a lavorare sui regolamenti comunali. Stiamo lavorando anche con i sindaci e ci sono già sette comuni che ci hanno detto che si stanno attivando per fare dei nuovi regolamenti comunali per in qualche maniera tutelare i loro concittadini.